Questa campagna elettorale soveratese è l'emblema della totale assenza di fermento politico in città, lo scrive in una nota Gabriele Francavilla, ex consigliere comunale di Soverato. E pensiamo sia proprio questo il punto. Soverato qualche campagna elettorale fa vantava un dignitoso dibattito nelle piazze, nei luoghi di aggregazione, quando ci si poteva aggregare, nelle sezioni, quelle poche ma vitali per il dibattito che ora è morto e sepolto. Complici sono anche i social, dietro i quali è più conveniente trincerarsi, evitando così il confronto vis-à-vis. Ma la politica è altro, è dibattito, battaglia, controllo. Gli ultimi anni poi hanno visto un sindaco con ampio consenso popolare e con assenza di una tenace opposizione in consiglio comunale, e anche questo non ha stimolato interesse e fermento nella popolazione. A tutto aggiungiamo l'assenza dei partiti con la conseguenza di liste nelle quali si mescolano candidati di destra e di sinistra con il solo scopo di accaparrarsi quanti più voti possibile. In questa tornata del 20 e 21 settembre 2020 a contendersi Soverato sono partiti in tre la lista di cambiamenti con a capo il sindaco uscente Ernesto Alecci. E qui sono tre i nomi che balzano agli occhi. L'assenza di Salvatore Riccio, la cui candidatura era data per scontata, la presenza di Giusi Altamura, voce costante nell'opposizione uscente, e la sostituzione del nome, ma non del cognome, Matacera, fuori il vice sindaco, dentro il cugino di quest'ultimo. Insieme per Soverato con Cosimo Arena, capolista, composta da giovani e definita dai più come Civetta. E la compagine Patto per lo Ionio, che candida a primo cittadino il consigliere di minoranza Vittorio Osica, principale avversario del sindaco uscente, e con all'interno 12 nomi inediti. Lista ricusata poche ore dalla presentazione. Due sarebbero le motivazioni, di cui una ampiamente superabile per giurisprudenza copiosa, spiega l'aspirante primo cittadino, e l'altra fondata su una tesi. Un candidato non può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista propria, che non è di vieto previsto dalla normativa elettorale, ma solo sostenuta da una sentenza del Consiglio di Stato del 2014. Oggi gli esponenti di Patto per lo Ionio hanno provveduto a presentare ricorso al Tar. Dunque sono giorni di attesa per capire che tipo di campagne elettorali si profila all'orizzonte. Senza la formazione di Sica, per Alecci la strada della riconferma sarebbe ancora più spianata.